Grandi ora. Occhio, scendo lateralmente con le gambe tese. Piano, scendo giù e salgo con l'altro. Piano, scendo bene e scendo giù. Torno qua, di nuovo step up. Ora si parte. Otto, sette, quattro, tre, due, andiamo su un angolo sul ginocchio e poi dall'altra parte. Su, unisco, su, unisco. Ci siamo? Ancora, ancora. Continuo. Portiamo sempre più sul ginocchio, tengo bene l'addome. Quattro. Ok, occhio, repeaters. Tre, tre dall'altra parte. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Ancora, ancora. Vai, vai, vai. Uno, due, tre. Ultimo. Uno, due, tre. Occhio singolo. Singolo. Tre, tre, di seguito. Di nuovo singolo. Singolo. Tre, di seguito. Continuo. Occhio. Occhio. Uno, due, tre. Uno. 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 Due, tre. Ultimo giro. Da l'altra parte. Uno. Due, tre. Marcia al centro. Otto. Quattro. Tre, due, e... Apro, unisco. Apro, unisco. Apro. Vai. Ancora, ancora. Scaldiamo bene. Il peso è sempre in centro. Di nuovo la marcia. Vengono sulle ginocchia. Sette. Sei, cinque, quattro, tre. Uniamo le due corde. Vado. Singolo. Singolo. Tre. Un'altra volta. Uno. Due. Tre. Da qua. Apro. Apro. Vai. Vai. Un'altra. 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 Ultimo. E si riparte. Dai, dai, dai. Vai. Singolo. Singolo. Uno. Due. Tre. Quattro. Due. Quattro. Tre. Due. Uno. Ok. Settacce. Facile. Allora, 8, 4, 3, 2, ok, apro, piego, spingo su, su, tagliamo per le braccia, mi vedete? Su, come se è andato a portare il soffitto, vai, vai, 4, 3, 2, 1, dietro, ginocchio verso la spalla, torsione il busto, più veloce, 4, schieno dritta, ok, di nuovo, set touch, lo rifacciamo uguale, 8, 4, 3, 2, apro, vado, Piego, su, su, up, up, vai, ancora, ancora, questa volta, 4, 3, 2, 1, dietro, lento, vai, Vai, chieno dritta, con il trago dell'addome, veloce ora, up, 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 4, 3, 2, 1, ok, Ci siamo ormai, 8, ripartiamo, dal singolo, singolo 3, 3, 2, ti va, 1, 2, 3, di servito, vai di là, singolo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, un'altra volta, 1, 2, 3, ultimo, 1, 2, 3, occhio, schiaccio dietro, schiaccio, quindi porto, ginocchio, petto e dietro, ok, continuo, bam, 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 ancora, ancora, le braccia le spingo avanti, ancora, vai, 8, 4, 3, occhio di lato, schiaccio, schiaccio, tutto il piede sulle gambe in appoggio, 8, 4, 2, 2, dietro, fuori, dietro, portare sempre sul ginocchio, sentite che brucia la gamba a terra? Ok, marcia, ok, marcia! Rifacciamo tutto, ma partiamo da sinistra, 4, 3, 2, e andiamo, singolo, singolo, 3, singolo, 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 3, squat, apro, off, 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 e ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ultimo, 1, 2, 3, dietro, schiaccio, schiaccio, porto sul ginocchio e schiaccio dietro, vai, vai, amorotto, 4, di lato, 6, Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e ora, 2, 2, 2, 2, sumere il ginocchio, ok, ok, marcia! Tutto ok? Manno un ultimo passaggio, 4, togliamo un bel calcio, avanti, e lo calco, calcio, calco, quindi, o, e lo calco, pan, calco, ancora, ancora, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Calcio, carichi Calcio, carichi Hop Hop Vai, 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 ancora, ancora Ultimo Marcia Ci siamo? Ultimo giro, interiorni questi Ok? Otto Calcio Quattro, tre, due Singolo Tre Vai, singolo Singolo Tre E quattro Ancora due Ora si resta Uno, due, tre Uno, due, tre Ancora Uno, due, tre Uno, due, tre Schiaccio dietro Vai, vai Portare sul ginocchio al petto Cinco Quattro Tre Due Laterale Hop Hop Otto Otto Quattro Quattro Due, due, due Schiaccio Schiaccio Vai Quattro Tre Due Si parte con i calci Su Su Parca Quattro Tre Due Uno E partiamo dall'altra parte Da che ho finito il riscalamento Vai Tre E Quattro Hop 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 Tenno tre Due Vai Uno Due Tre Uno Due Tre Ultimo Dietro Schiaccio Schiaccio Incorotto In fuori Su Bene il ginocchio Prendo l'ordone Quattro Tre Due 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 Hop 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 Ultimi Quattro Tre Due Uno E calci Su 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 Vai Vai Hop Hop Dai che sui ultimi Quattro Tre Due Uno Marcia No